Negli Stati Uniti un aereo storico è precipitato durante un aereo a Martinsburg in West Virginia a poche ore di distanza dal drammatico incidente aereo in un altro aereo a Reno nel Nevada che ha causato la morte di almeno 9 persone e decine di feriti. Questa volta a perdere la vita nello schianto è stato solo il pilota, fortunatamente a terra nessuno è rimasto coinvolto. L'aereo, un T-38 Trojan della seconda guerra mondiale faceva parte di una formazione di sei aerei simili. Durante una manovra che prevedeva un incrocio con un altro velivolo qualcosa è andato storto. Forse come si intuisce da queste immagini amatoriali diffuse sul web c'è stata una piccola collisione che ha causato un avvitamento di uno dei due aerei schiantatosi sul campo di volo in una palla di fuoco.